Ragazzi ora mi vado a mangiare una bella pizza fritta da Giuseppe. Buonasera Giuseppe, mi puoi fare una pizza fritta? Va bene, te la faccio a moto mio? Sì, va benissimo. Stendiamo sempre l'impasto. Allora la facciamo con mozzarella di bussola, la mettiamo al centro, con fettine di mortadella. E l'ultimo tocco, ci mettiamo un bel pistaccio. Diamo un po' a tutti i lati, vai. Facciamo un bel abbondante. Ecco qua. Tirisci anche un po' di pepe? Va bene. Va buonissime. Un attimo solo tra i nostri misi che giriamo le frittelle napoletane. Va bene. Un po' di pepe. E togliamo anche le frittelle napoletane. E la chiudiamo, vai. E la pizza è pronta? Si, è pronta. La vuoi portare o te la faccio a metà? Fammela a metà. Va bene. Un po' di sale pure. Va bene. E' pronta. Certo qua. Ciao.